Sarà pur vero che sono in corso i lavori di potenziamento del depuratore di Manfredonia, ma è ormai dal mese di agosto che nel torrente Candelaro viene sversata acqua sporca. Le immagini sono state postate sui social dagli ispettori delle guardie ambientali Civilis e si riferiscono al pomeriggio di oggi, venerdì 23 novembre 2018, acqua che finisce nel golfo di Manfredonia, già gravemente malato. Le autorità competenti hanno promesso che entro fine anno si tornerà alla normalità. Speriamo e soprattutto ci auguriamo che non sia troppo tardi per curare un malato cronico, come il nostro golfo, dove nonostante tutto c'è ancora il miglior pescato dell'adriatico e dove insistono moderni e funzionali stabilimenti balneari. Compromettere l'economia del mare in una città come Manfredonia sarebbe l'ennesimo colpo di grazia. Carica, senza depurare!